ciao amici bentornati un altro sabato insieme un'altra recensione un altro Mirko Moretto eccoci qua belli ciao Alex ciao a tutti i video followers benvenuti oggi partiamo alla grande con una carica perché siamo tornati il sabato 360 ringraziamo anche Mattia Losi che ieri è tornato a pieno ritmo e vogliamo ricordare come sempre la musica come un momento di gioia anche se oggi andiamo a fare una recensione tributo della vita di un grandissimo musicista chi è Mirko? Mr Charlie Watts compianto ormai è purtroppo batterista dei Rolling Stones che qualche giorno fa ci ha lasciato purtroppo a 80 anni aveva annunciato che non sarebbe andato in tour quest'anno con con i suoi compagni di vita una seconda famiglia praticamente e che al suo posto ci sarebbe stato niente poco di meno che Steve Jordan però non aveva dato grosse motivazioni problemi di salute e poi dal nulla è arrivata questa brutta brutta notizia che Charlie Watts uno dei più grandi batteristi della storia non c'è più questo è un momento molto triste perché se in quest'anno stiamo gioendo per un sacco di cose abbiamo notato che negli ultimi due anni tantissime persone celebrità ovviamente le persone famose quando ci lasciano è un po' più uno sgomento per l'opinione pubblica però voglio dire faceva parte fa ancora parte spiritualmente di uno dei gruppi che hanno fatto la storia del rock and roll quindi ha toccato molto anche se come tutti insegnano solitamente si pensa sempre e solo al front man dei gruppi il bello di queste generazioni di rock and roll era che proprio erano tutti quanti innalzati allo stesso livello e quindi essendo io appunto uno dei quattro membri di questa bellissima band è stato un colpaccio comunque specie per te che sei un batterista caro maestro esatto perché queste queste figure quasi mitologiche per te che sei appassionato e vorresti diventare magari un giorno anche come loro pensi sempre che siano immortali che siano delle divinità degli highlander nonostante gli anni che passano e nonostante la vita che hanno che hanno che hanno fatto anche se Charlie Watts si è sempre distinto come quello più calmo quello più riservato quello sempre fedele alla moglie perché i due diciamo diavoli dei Rolling Stones come tutti sappiamo erano Kate Richards e Mick Jagger che non si sono mai fatti mancare nulla in tutti i sensi credetemi e Charlie Watts è quello che quando il padrone di Playboy li ha invitati a casa a casa sua quando sono andati i Rolling Stones nel 74 se non erro o nel 72 sono andati a casa del padrone di Playboy e gli altri membri della band bravissimo ripetilo metà della band è stata insieme alle conigliette a parlare di affari mentre Charlie Watts ha passato la notte ai videogiochi alle macchinette perché appunto era la è sempre stato fedele alla moglie non ha mai seguito le orme di Kate Richards e Mick Jagger anche se erano fratelli fra di loro vedi che la musica non per forza deve essere eccessi in tante cose può essere proprio un eccesso solo durante l'esibizione ma nel proprio orgasmo musicale e qualche informazione per i meno esperti meno così del settore su questo gran batterista cosa ci porti oggi Mirko? Allora Charlie Watts è entrato in pianta stabile nei Rolling Stones nel 63 dopo tre batteristi si sono succeduti sullo sgabello dei Rolling Stones un po' come era successo per i Beatles che prima di Ringo Starr hanno avuto Pete Best e ne abbiamo parlato di questo. Ha cambiato ha cambiato lo stile di suonare la batteria soprattutto nel rock perché è la dimostrazione in carne ed ossa che non devi pestare come un cavernicolo per fare la musica rock. Lui arriva dallo swing, dal blues, ha un modo tutto suo di utilizzare ogni singolo tamburo, ha un'impugnatura improbabile, ha completamente rivoluzionato il modo di stare dietro i tamburi e molti di quelli che fanno il suo mestiere o che lo vorrebbero fare gli devono molto, gli devono molto in tutti gli stili. Ad esempio Lars Ulrich, il batterista dei Metallica che sappiamo bene che stile fa, è rimasto molto colpito da questa notizia e ha affermato che è stata una sua grandissima influenza e che è la dimostrazione di come davanti c'erano Kate Richards e Mick Jagger a intrattenere. I Rolling Stones sono in cima alla piramide musicale, ha detto Lars Ulrich e quindi Charlie Watts è in cima alla piramide dei batteristi. Kate Richards ha detto una bellissima cosa, Charlie Watts è il letto sul quale io mi sdraio musicalmente, che è una definizione secondo me bellissima. Non è Charlie Watts che va dietro i Rolling Stones, questo lo dicono tutti, ma sono i Rolling Stones che vanno dietro a quello che ha sempre suonato Charlie Watts. La base è lui, sulla quale poi si è costruita tutta la musica dei Rolling Stones, che ha fatto la storia. E sono sicuro, sono sicuro Mirko, che per omaggiare questo grandissimo batterista tu hai portato anche qualche chicchetta prima di salutarci, ma ne sono sicuro guarda. Sì sì, una l'ho scoperta riguardando uno dei suoi concerti ultimamente, che li ho riascoltati. È stato un po' patriottico nei nostri confronti, perché ha utilizzato per tutta la sua carriera i piatti Ufip, che sono italiani, sono di Pistoia. Metà Ufip e metà Ziljan, che è un marchio famosissimo di piatti della batteria, ma gli Ufip sono italiani. Quindi ragazzi, ha sdoganato un marchio italiano in giro per il mondo, un'eccellenza italiana in giro per il mondo. It's coming Rome, no, it's coming Pistoia. Pistoia, salutiamo gli amici di Ufip. Ciao, ciao, ciao Pistoia da Life Entertainment. Bene, bene, quindi secondo me non c'era modo migliore di omaggiare la vita musicale, la carriera musicale di questo grandissimo batterista e poi sappiamo benissimo che giochiamo in casa e sono sicuro che avrai ancora qualcosa da dire prima che io do l'appuntamento a sabato prossimo. C'è stato un momento nella carriera di Rolling Stones, se cercate un bel aneddoto, in cui Charlie Watts è uscito un attimo dai panni del musicista, del batterista tranquillo, quello dei Rolling Stones che tutti conoscono meno, più che altro quello più pacato e tranquillo. Nell'84, mentre lui dormiva, erano in tour, dormivano in hotel, alle 5 del mattino viene svegliato da una telefonata. Era Mick Jagger che pretendeva di avere il suo batterista tutto per lui quella sera. Lo chiamano e gli fa, dov'è il mio batterista? Vieni subito nella camera di Kate Richards. E lui, impassibile, si alza, si fa la barba, lucida le scarpe, stira il vestito, se lo mette, va nella camera di Kate Richards, entra e la prima cosa che fa è tirare un pugno in faccia a Mick Jagger e gli dice, non ti permettere più di dire il mio batterista, sei tu che sei il mio fottuto cantante. E qua mi ricorda un nostro viaggio, ma ne parleremo più avanti. Coming soon, coming soon. Coming soon, va bene. Io ringrazio tutti per averci seguito come sempre, ringrazio il maestro Monetto per essere preparatissimo e mando un abbraccio ovunque egli sia al grandissimo batterista. Signori, sabato prossimo torniamo nuovamente con un nuovo recensore, intanto seguiteci, iscrivetevi e vedete un po' tutto quello che combiniamo sul nostro canale YouTube. Ciao maestro Moretto. Ciao Alex, godi forte. Godi forte. Ciao amici, alla prossima. Bravi. Ciao a tutti.